Enesima sconfitta per l'Epicasa Brindisi che perde anche nel tagliaccio di Mestre con la Reier Venezia, 79-71, ma regge il confronto ed esce a testa alta dal campo contro la più grossa e blasonata formazione di Neven Spaya. La cura Saccota inizia a vedersi, con una squadra che gioca un altro basket. Nonostante le assenze di Johnson, Senglin e la Quintana, coach Saccota ha trovato più volte i quintetti migliori per mettere in difficoltà i lagunari. Alla palla 2, Brindisi si presenta con Kinslin, Risma, Snid, Laseski e Baillet e dal primo minuto si vede qualcosa di buono. Snid è ovunque in attacco e in difesa. Baillet si fa trovare pronto sugli scarichi, con Venezia che deve sempre rincorrere. Coach Spaila prova a utilizzare le seconde linee, ma dopo una frazione in equilibrio, alla prima sirena il vantaggio è Biancazzurro 24-21. Nel secondo tempino si continua a giocare in equilibrio con la New Basket che risponde ad ogni attacco dei padroni di casa. Taker prova a salire in cattedra con canessi dall'arco ed in penetrazione, ma c'è sempre Xavier Snid che inventa per i pugliesi. Coach Saccota schiera a gara in corso Morbis, ma l'americano è fuori ritmo con la Reier che approfitta di troppi errori al tiro in cabina di regia, chiudendo sopra di 10 alla pausa lunga, 48-38. Quando si torna in campo i brindisini sono più lucidi e freschi atleticamente. C'è un break di 13-4 in favore dei Biancazzurri che si rimettono in partita costringendo al time-out Spaya. Le cose non cambiano tantissimo con la Zeskia e Snid che continuano a creare in attacco, poi si aggiunge Lombardi a dare supporto in difesa. Sims per Venezia scuote i compagni, ma a fine terzo quarto brindisi avanti 60-59. Nell'ultima frazione si gioca ancora in equilibrio con Venezia però che mette il naso avanti con i canestri di Brown e Taker. Coach Saccota paga l'assenza di due play e dell'esperto Johnson con le rotazioni troppo corte e titolari che vanno in affanno. Brava la Reier a premere sull'acceleratore per scrivere il break dell'allungo decisivo. Mercoledì gara di FIBA Europe Cup contro Caleb Cramo, mentre sabato sera per l'anticipo dell'ottava giornata di campionato sarà ancora match esterno per i Biancazzurri di scena a Trento. La classifica inizia ad allungarsi e l'Epicasa è a zero punti in compagnia di Treviso. Possibile però che nei prossimi giorni la società del presidente Nando Marino possa annunciare qualche movimento di mercato con un importante rinforzo.